Documenti mancanti, intoppi burocratici, tempi lunghi e ancora poche certezze, non si placano le polemiche sul futuro del palazzetto di Muggiò. L'amministrazione comunale continua a ripetere di realizzare il nuovo impianto sportivo, un'opera presentata con i fondi che dovrebbero arrivare dai ricavi delle alienazioni di un immobile che non ha ancora le certificazioni energetiche e catastale, mi sembra poco credibile, tuona in consiglio comunale il consigliere Alessandro Rapinese, lista rapinese sindaco. Abbiamo un progetto di fattibilità da 14 milioni di euro, ha detto Ada Mantovani, consigliere del gruppo misto. Peccato che questo finanziamento è sostenuto da un'alienazione di cui non abbiamo ancora parte della documentazione. Anche la bonifica dell'area del palazzetto è ferma e si attendono nuove indagini da parte dell'ARPA. E ancora attacca il Partito Democratico della città di Como, vorremmo essere sorpresi dalle ultime novità riguardo al palazzetto dello sport, se per novità si intende la conferma che purtroppo è ancora tutto bloccato. Ma la verità è che siamo oramai abituati a questo tipo di situazione ai confini della realtà. Unita al caso della piscina di Muggiò, l'esempio del palazzetto dimostra l'incompetenza amministrativa di chi si è da Palazzo Cernezzi, è il commento che arriva da Stefano Fanetti, capogruppo del PD in comune a Como. Infine il consigliere DEM, Gabriele Guarisca, a portare a galla un altro tassello mancante della vicenda che riguarda il nuovo palazzo sport. La delibera della giunta del 30 settembre scorso, con la quale viene approvato lo studio di fattibilità relativa alla viabilità del nuovo palazzo sport, indica un aumento dei costi complessivi che ora arrivano fino a 2 milioni e 900 mila euro, con un aumento di 490 mila euro in più rispetto a quanto previsto nel 2019. Si tratta però di fondi che non sono stati messi a bilancio, continua Guarisco. Dovremmo fare un'ulteriore variazione di bilancio anche per questa somma? Interrogativo al momento rimasto senza risposta.